Il progetto che si intitola Now is your time to shine è nato l'anno scorso durante il 2022 su richiesta del progetto 13 fotografi per 13 musei della Lombardia del Ministero in collaborazione con il MUFOCO, il Museo di Fotografia di Cinisello Balsamo. Il titolo che poi significa in italiano tradotto ora è il tuo momento di risplendere deriva dall'agenda che aveva con sé la direttrice storica del museo Rosalina Invernizzi dove teneva i suoi appunti. Il titolo nasce da questa cosa qui e mi piaceva molto perché parlava sia di se stessa in un certo senso che andando in pensione e chiudendo la sua carriera qui aveva la possibilità di cominciare una nuova vita e sia si riferiva a quello che accade alle opere che vedete in mostra che sono nate da una serie di visite che ho realizzate all'interno del museo alla ricerca di un tema, qualcosa di cui parlare. Tutta la mia indagine precedente viene raccontata in un libro che è in mostra, mentre quello che vedete poi alle mie spalle e all'interno dello spazio sono in realtà dei calchi in gesso e delle foto a questi calchi in gesso che riproducono fedelmente alcune delle scatole in plastica, dei contenitori in plastica che vengono usati regolarmente all'interno del museo, non solo questo, per contenere i reperti più piccoli la particolarità cos'è e la cosa che mi ha colpito è che sono tutte scatole contenitori di prodotti di consumo contemporanei dalle creme per il viso a prodotti alimentari come la Philadelphia o lo yogurt, il gelato e quindi quando Rosanina raccontandomi un po' come funziona un deposito di un museo mi ha mostrato questi oggetti, io sono rimasto subito catturato dalla particolarità anche da una cosa bizzarra nella mia testa ovviamente che venissero usati dei contenitori di questo tipo e quindi non ho fatto altro che prenderli e farne dei calchi in gesso quasi a simulare un reperto archeologico del futuro se volete perché appunto è possibile che in futuro nel primo strato della crosta terrestre molte cose che verranno ritrovate dai futuri archeologi saranno i nostri prodotti di uso quotidiano e di consumo tra i quali potrebbero esserci benissimo anche loro quindi tutto il lavoro è stato quello di prelevarli dal museo, portarli in studio, realizzare questi calchi in gesso molto fedeli a una tecnica comunque molto tradizionale e antica e poi rifotografarli in una tecnica, una modalità molto simile a quella che viene realizzata dai fotografi che poi scattano i reperti archeologici all'interno del museo quindi con il colorimetro per rispettare i colori originali, i righelli per misurare qui in questo caso non compaiono ma facevano parte del processo e basta, quindi in un certo senso mi piaceva parlare di un deposito mostrando quello che il futuro potrebbe poi riportarci, una sorta di circolo che viene a chiudersi